Buonasera a tutti i campioni d'Italia, amici nerazzurri, amici in generale di YouTube, video in ritardo di un giorno, lo so, ieri non potevo farlo e a sto punto aspettavo i risultati di oggi per vedere se erano a nostro favore, quello che veramente ci interessava, cioè Atalanta e Roma è stato a nostro favore. Parliamo della partita di ieri, parliamo dell'Inter contro la Salernitana, fuori casa 5-0, un'altra partita sublime da parte dell'Inter, tutti perfetti, Dumfries sempre più inserito che fa il 2-0 anche se ha avuto un po' di fortuna perché l'ha presa male, il pallone sbatte sotto la traversa ed entra ed è stato assegnato grazie alla GoLight Technology, un Inter veramente bella. Cioè ormai c'è pochissimo da dire, la cosa importante è che al momento siamo a più 4 dal Milan sperando che dopo il regalo che ci ha fatto Mourinho oggi facendo 4 con l'Atalanta e quindi tenendola a meno 6 adesso, quindi Inter 6 punti di vantaggio sull'Atalanta e che domani il Napoli ci possa fare un regalo, andare a pari punti con il Milan e avere la seconda a 4 punti di vista, può essere già campioni d'inverno, una partita prima. Ragazzi quanto è bella l'Inter di Simone il Bello, ci sono pochi aggettivi, ieri su 5 gol 5 marcatori diversi. Il Nigno Maraviglia che è tornato a essere Maraviglia, no che non lo, perché poi ho sentito pure a Dani, non è che non lo fosse mai stato o noi non crediamo in Nigno Maraviglia a livello di qualità. Il problema di Nigno Maraviglia è che ogni volta che va in nazionale si sfascia, in 3 anni l'abbiamo avuto a disposizione veramente poco. Adesso per completare la rosa manca soltanto il recupero di Tuku Correa, ieri si è visto anche Alexander Kolarov, che a quanto pare lo ha voluto fortemente anche Inzaghi che rimanesse perché è un uomo importante nello spogliatoio, sicuramente anche in allenamento può dare la sua esperienza sui calci piazzati, sui calci d'angoli. Grande partita di Ciala, ancora Assis, cioè praticamente i calci d'angolo quando li abbiamo per gli altri sono quasi sempre una sentenza. I Sozzoneri l'hanno perso a zero perché non sapeva battere gli angoli. Ieri ancora Assis su calci d'angolo per il gol di Ivan il Terribile, Ivan il Terribile che io già acclamavo l'anno scorso quando ancora c'erano molti molti dubbiosi. Ragazzi, un Inter veramente bella, il giorno dopo è difficile essere lì a dilungarsi perché che cosa vuoi dire su una squadra così? La Salernitana a mio modo di vedere ha preso più gol ma ha giocato meglio del Cagliari, ci ha provato un po' di più, è stata un po' più scontrosa però ovviamente i limiti della Salernitana sono quelli. Basta sentire le parole di Murigno per battere squadre come Milan, Atalanta e queste squadre qua. Non basta la preparazione tattica ma ci vuole carattere, l'Inter non la nomino perché l'Inter è un altro livello. È vero che Giuseppe nei nostri confronti, magari anche senza volerlo, ha un grado di apprezzamento diverso. Basta ricordarsi la frase, anche a me piacerebbe girarmi e trovare i giocatori dell'Inter in poche parole. Quindi ragazzi, si va a ve le spiegate verso il campione d'inverno che non serve a nulla, a noi interessa il titolo a fine anno, speriamo nel Napoli domani. Su Salernitana e Inter, sono d'accordo con lo striscione dei tifosi dell'Inter, chi appoggiano e che sono al fianco dei tifosi della Salernitana che per ora sta passando un momento difficile a livello societario. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e condividete. Iscrivetevi al canale di Luigi Nerazzurro, nel bene e nel male, comunque amala.